Dove ci vediamo? Corso Francia 222 a Collegno Corso Francia 222 a Collegno Quando ci vediamo? Quando volete, domani, dopodomani, la prossima settimana E tutto il resto che non avete ancora visto, ora lo vediamo insieme Bene Rocco, facciamo una panoramica Perché questa è la Bebocar La Bebocar è una novità, è una realtà ormai consolidata E quindi ci sono tante autovetture Abbiamo visto la Wave, abbiamo visto lo Steed Abbiamo una gamma enorme di chilometri zero Del gruppo Stellantis, le Fiat, le Panda, le Cubo, le Jeep Renegade e il resto della gamma Le 500X, abbiamo le Dacia, abbiamo le Renault, abbiamo le 500 Abarth, abbiamo le Nissan Abbiamo la vettura per voi Quindi Corso Francia 222 a Collegno Noi facciamo del nostro meglio Sicuramente ci impegniamo per la vostra soddisfazione E questa è un'altra Wave Guarda che bella, bianca Rocco, quindi alternativa Come colori, sono quattro colori Le abbiamo pronte, ma le abbiamo pronte davvero Non è che vedete, ah, ve la consegniamo fra otto mesi No, noi ve la mettiamo nel garage Non lo so quanto ne abbiamo oggi, ma fra una settimana Sceglierete il colore Per me e per i miei colleghi Sarà un onore, un piacere Vedervi come al solito su questi schermi Schermi nella nostra azienda In Corso Francia 222 a Collegno Ciao per adesso, ma solo per adesso Perché noi ci rivedremo ai fermi tutti Perché vengo nel vostro divano a trovarvi Ciao